Da Ella siamo andati a Gol e come prima cosa appena arrivati nella cittadina siamo andati a vedere il tramotto dalle mura Le mura di Galle viste dal Bastia di Spella La cena a Gol è un curry con il riso, poi c'è il pollo della marita Pappa d'ame e diversi dei cittadini di condimenti vegetali Porta principale di Gol Questa invece è la porta vista da fuori Interno della chiesa anglicana Questo era il Dutch Hospital, l'ospedale degli olandesi Adesso è una sorta di centro commerciale con prodotti in vendita per turisti Quindi gemme, souvenir Comprensibilmente questo è il faro che domina il forte di Gol In effetti qui forse li vedete nell'angolo ma ci sono degli scogli mica male Ma è troppo e altro di nostro oggi Anche se il faro è troppo curioso Questo è nel mezzo del centro di Galle Non nella foresta tropicale che sta devendo essere riuscita E' un po' vista ricostruito all'interno di una chiesa E questo è il panorama che si vede dal treno andando da Gol a Colombo Grazie 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 Grazie